Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Il leggere, il parlare, l'indagare, aiuta a comprendere quello che è il sottostante, il testo e quello che poi va in scena. Credo che sia il modo migliore per studiare un testo, leggerlo pubblicamente. Queste parole, di colore oscuro, vidio scritte al sommo d'una porta, perché io, maestro, il senso lor me duro. Io non so perché a me accade questa cosa. Sta di fatto che quando tu, in qualche modo, assumi su di te una sorta di investitura che è illusoria, ma comunque è un'investitura rispetto ad un personaggio, come dire, sei in qualche modo costretto, per forza di cose, a metterti un po' troppo da parte. Io sto cercando di non farlo più, anche quando faccio l'imbonitore, per esempio, quando ho fatto il capitano, in qualche modo cerco di non perdermi troppo dietro questa questione del personaggio che io vi mostro, come io intendo questo personaggio. E' necessario comunque, e questo già lo diceva Waktangov in tempi non sospetti, diciamo, non è giusto che l'attore vada verso il personaggio. E' giusto l'opposto, è giusto che il personaggio vada verso l'attore, perché comunque, in fin dei conti, chi sta sul palcoscenico non è un personaggio, ma è una persona, è un attore. E a me, io ora ti devo dire la verità, ultimamente, davvero mi interessa sempre meno delle forme, le strutture, sì, certo mi interessano, ma non riesco a staccarmi dal lavoro degli attori, che trovo che sia la cosa più interessante. Quando c'è una persona in scena, e non è un problema di abilità o di, come si dice, maestria, un attore bravo, non bravo, chi se ne frega, non so che cosa significa. Quel che mi interessa è la persona che si mette lì, che cosa accade a quella persona, chi è quella persona, perché sta lì, cosa fa, cosa pensa di fare, invece che cosa vedo io. Allora io, quando ci sono le persone in scena che in qualche modo tentano il processo mimetico, io, è quella la cosa che mi interessa. Tutto il resto, va bene, è relativo, non mi interessa, sì, va bene, ma chi se ne frega. E poi, che la sua mano alla mia puose, con lieto volto, ond'io mi confortare. Lettore, lettore di un testo, letto come è capitato a te questa sera, è attore. Dov'è l'unità, la vicinanza e dov'è la differenza? Allora, io credo che l'unità sta dentro la parola evocazione. E' un po' poi quello che diceva Brecht, quando cercava di spiegare qual era la sua teoria, la sua idea di verfrendum. Io ricordo bene questo passaggio dove lui diceva, è un po' come quando accade, per esempio, facciamo questo esempio, accade un incidente stradale, grave, molto grave, un casino, una roba terribile. Tu, che sei lo spettatore, in qualche modo, arrivi quando la cosa è già accaduta. Tu non hai visto quello che è successo. C'è uno lì che cerca di dirtelo. Te lo racconta, te lo vive, cerca di evocare a caldo le sensazioni che lui ha avuto guardando e vedendo questa cosa. Certamente è un'utopia, è una pretesa assurda, è un po' come voler raccontare un sogno, un incubo. Quando si cerca di raccontare un sogno che si è fatto, ci ha colpito molto ad un amico, una persona, al tuo compagno, alla tua compagna, eccetera, eccetera. Quando si racconta, si attraversa il racconto dell'incubo, ci si rende conto che qualunque cosa si tenti di fare per restituire in maniera totale quel che si è provato noi a viverlo, non funziona. Nonostante questo ci sforziamo in tutti i modi di evocare dei climi, evocare dei colori. Questo è quello che anche un attore dovrebbe fare, questo lo dice Brecht, anche un attore dovrebbe occuparsi di questo. Non tanto di attraversare quell'episodio come se lo stesse attraversando davvero, ma lo attraverso perché il mio scopo è quello di farti vivere il senso di quell'episodio che sto attraversando. Questo con la lettura è obbligatorio, perché tu stai un passo indietro. Tu devi mettere al corrente di chi ti sta ascoltando qual è la tua idea di quel clima, di quelle dinamiche, di quelle tensioni. E quindi è un forte lavoro di evocazione, un forte lavoro di evocazione. Un attore dovrebbe fare questo, leggendosi e costretti. Quindi la lettura è un esercizio straordinario. Perché io al cominciare nel lagrimai diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accendi d'ira, voci alte e fioche, e suon di manconelle, facevano un tumulto il qual saggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena, quando turbospira, e io cavea d'orror la testa cinta, dissi. Maestro, che è quel chiodo? E che gente che par nel duol si vinta? Il teatro ti ha dato l'opportunità di simulare la felicità o te l'ha data qualche volta? No, guarda, io la felicità, non lo so. Guarda, io ero talmente asino a scuola e invece poi ho scoperto che una delle cose che mi dà, non dico felicità, ma insomma una grande forza è proprio lo studio. Io voglio dire, se devo mettere sul piatto della bilancia la gioia e il dolore rispetto alla scena, perché la scena è un mondo analogo, è l'analogia, il teatro è analogo alla vita, non è la metafora, la metafora è lo sport, il teatro non c'entra con la dimensione metaforica della vita, è un mondo analogo. Bene, quando tu frequenti quel mondo, se lo senti, beh, hai cose belle, cose brutte, hai gioia, hai dolori, hai sofferenza, hai leggerezza, hai pesantezza. Se io dovessi mettere sulla bilancia il bianco e il nero, il bello e il brutto, io non so davvero da che parte si scende col pianto, veramente non lo so. Però so una cosa, so che il nutrirmi, il leggere e il studiare, tutti coloro che nel corso del tempo hanno fatto il mio mestiere e hanno provato in qualche modo a scrivere parole con grande dolore, grande sofferenza, perché è impossibile raccontare la nostra arte, bene, la lettura di queste cose mi ha sempre tenuto attaccato a quest'idea come una cozza. Io credo che sia doveroso, dovere non è tutto, io sono anche, come dire, tutore della parola facoltativo. Tu sai che c'è un sito della Zanichelli dove si può diventare tutore di una parola della lingua italiana di cui si va perdendo l'uso? Io sono tuttora per un anno della parola facoltativo. L'adopero in continuazione nei miei laboratori perché mi è rimasta dal mio maestro delle elementari che quando mi diceva questo è obbligatorio, questo è facoltativo, beh, ti veniva che quello facoltativo era il più importante di quello obbligatorio. E se non lo facevi era un'onta, era un disonore. In qualche modo facoltativo ti dà la facoltà e quindi ti fa muovere, ti fa muovere molto di più rispetto all'arrocco e allo star fermi di fronte agli obblighi. Gli obblighi, chi se ne frega. Gli obblighi, chi se ne frega. Gli obblighi, chi se ne frega. Non cercate mai vederlo cielo.